ah, è tutto scompare eh, vedi, vedi... cosa c'è qua? vedi un falsedale, vedi mai le tieni di segreti e willi le ma sai come vedi? Dove stiamo? Stiamo qua. Così, stiamo così. È in attacco. No, prendi questo. Andiamo subito giù. Andiamo? Ma è di notte. C'è la luce davanti. Sto per dietro. Stai che ci proviamo a prendere. No, no, no. Non lo so. Non lo so. Non lo so. No, va bene. Non lo so. Non lo so. Non lo so. L'inquadratura che voi vedete è invece di Lopez. Per cui sono due che state fatte. Cioè, mentre uno fa l'inquadratura, c'è quell'altro che inquadra quella che sta in un'inquadratura. È bellissimo. Oddio, è bellissimo. Potevano stare ore così, sai? Ma è peccato in una situazione del genere. Sì, ma non è che duravano dieci minuti. Una cosa così potevano giù di realtà giornate. Praticamente. E poi se guardano le inquadrature, prendete quale è il inquadratura. È straordinario.